La nebbia dell'incertezza torna ad avvolgere il futuro delle naiedi, dei suoi lavoratori, della sua utenza e di tutte le associazioni sportive che facevano affidamento sull'impianto natatorio pescarese per portare avanti le proprie attività. La nuova Tegola è improvvisamente precipitata dopo la determina di Areacom che ieri ha annullato sia l'affidamento d'urgenza che quello ventennale delle naiedi al club acquatico, che con un facile gioco di parole faceva acqua da tutte le parti, secondo quanto recriminato dal centro-sinistra, tornato ad attaccare il governo regionale per la gestione dell'impianto natatorio. Dunque, attività ferme già da oggi, come annunciato con un comunicato diffuso ieri dal club acquatico, che ha informato di non poter più garantire l'apertura dell'impianto. E in attesa di un nuovo bando di gare che porti all'individuazione di un nuovo gestore, si pensa a soluzioni alternative per tenere aperto l'impianto sportivo, ma tra queste non sarebbe ormai più percorribile la gestione diretta delle naiedi da parte dei lavoratori sotto forma di cooperativa, a causa di tempi burocratici troppo lunghi, come spiega il Tg8 Guido Cupido della SLC CGL di Pescara. Questa soluzione è una soluzione che in altre realtà ha visto la percorribilità, ed è una soluzione che noi avevamo provato a condividere anche con alcuni rappresentanti della regione, ricordiamo che è l'ente proprietario di quella struttura. Forse oggi non ci sono queste condizioni, bisognerebbe immaginare un affido di urgenza di questa struttura per dare la continuità dopo un percorso già difficile. Quanti sono i lavoratori che adesso rischiano di nuovo di precipitare in un'incertezza occupazionale per il prossimo futuro? I lavoratori non sono stati mai recuperati da quella incertezza legata anche a questo affido prima di emergenza e poi transitorio legato a questo bando ventennale. In realtà soltanto una minima parte delle maestranze erano state recuperate. Parliamo della metaforza dei lavoratori strutturati e poco meno, insomma, di un quinto di quelli che lavoravano con un contratto non strutturato all'interno di quella struttura. Molti lavoratori sono rimasti in Naspi, quindi la porta che si riaprano per quei pochi che erano stati richiamati all'interno della struttura è comunque ritornare alla Naspi. Luca Ondifero, segretario generale della Camera del Lavoro Cigelle Pescara. Siamo arrivati in una situazione, direi paradossale, una serie di errori fatti da chi ha gestito tutta questa partita da ormai diversi mesi, quindi una cattiva gestione che ha prodotto una serie di incertezze, una serie di problemi, su cui ci sono anche indagini della magistratura in corso per accertare anche delle eventuali responsabilità. Noi chiederemo immediatamente un incontro alla Regione Abruzzo perché vogliamo avere risposte rispetto a cosa hanno in mente, ma soprattutto vorremmo proporre delle soluzioni. Noi saremo per una gestione a questo punto diretta da parte del pubblico, sia perché la proprietà è pubblica della Regione, sia perché è una struttura quella troppo importante che deve essere messa al centro anche dello sviluppo di questo territorio.